amici di inter tv punto it bentornati da michele borrelli alle video pagelle post inter chievo una partita vinta dall'inter per 1 a 0 il decimo 1 a 0 stagionale per l'inter in 23 giornate diamo i voti naturalmente opinabili come sempre possono naturalmente anche far discutere a partire da andanovic che anche un po provocatoriamente vorrei vedere con un senza voto più che con il 6 perché sì è vero un paio di uscite di respinte ma in realtà il chievo ha fatto zero tiri in porta quindi è bello anche dopo avergli dato tante volte 7 8 8 e mezzo 9 eccetera eccetera anche vedere il portiere dell'inter che esce con un senza voto brava quindi l'inter anche nella fase difensiva nagatomo e telles le note positive sugli esterni qualcuno non era soddisfatto quando ha letto le formazioni vedendo nagatomo titolare e invece il giapponese ha risposto molto bene anche proponendosi tante volte in avanti incessantemente con un cross per esempio nell'occasione in cui i cardi poi di testa prende il palo ma anche nel primo tempo nell'occasione in un'occasione primo tempo di eder quindi molto molto bene nagatomo che sta anche per rinnovare il contratto con l'inter poi vedremo se per venderlo la prossima estate oppure per restare lui però ha sottolineato l'amore per l'inter alla fine della partita e quindi vorrebbe rimanere intanto si prende un bel set telles sei e mezzo più della sufficienza perché soprattutto nel primo tempo ha fatto vedere ancora una volta di avere un ottimo sinistro anche superando in dribbling e crossando bene è uno dei giocatori nella rosa dell'inter che crossa meglio forse insieme a perisic quindi un giocatore che serve che sarà molto molto utile certo 8 milioni e mezzo non sono pochi per il riscatto oltre alla cifra di un milione e tre già pagata ma se riuscirà a avere continuità se crescerà anche in fase difensiva deve essere meno timido ecco deve avere più presenza nella partita e non solo dimostrare e far vedere e far intravedere il suo sinistro il suo piede la sua continuità nel nei cross e nell'attaccare però con le squadre che si chiudono in casa telles deve giocare sempre perché molto molto utile a livello di azione offensiva i due centrali sei e mezzo sia per miranda che per muriglio che magari può sembrare abbiano fatto una normale amministrazione in realtà non solo hanno fatto benissimo dietro non creando non facendo creare nessun problema alle al chievo ma anche in avanti perché sia muriglio con un colpo di testa ha sfiorato il gol sarebbe stato il suo secondo gol quest'anno sia miranda ha propiziato poi il gol del vantaggio e quindi nonostante l'ammunizione miranda non la meritava cioè o meglio era ammunizione ma non è stata colpa sua perché è stato brozovic con un scelerato retropassaggio a metterlo in difficoltà sia miranda che muriglio quindi meritano il sei e mezzo come telles sette nagatomo perché ha fatto veramente bene a centrocampo tutti e tre sei sia brozovic sia medel che con dobbia mi aspetto di più dalle loro qualità per questo per questo sei anche in una partita vincente anche se hanno fatto hanno fatto il loro con con alti e bassi medel ci ha messo come al solito soprattutto la corsa con dobbia grandi qualità ampi margini di miglioramento l'ho fatto vedere ancora una volta deve cercare di di giocarla con meno tocchi così come anche gli altri centrocampisti a volte la manovra è lenta in orizzontale perché si gioca poco di primo a due tocchi devono e possono migliorare hanno tutte le qualità e possono anche essere schierati con medel con dobbia coppia centrale davanti alla difesa e brozovic magari un po un po più davanti non sono le classiche mezzali brozovic ma soprattutto con dobbia c'è vanno poco senza palla e la manovra ne risente però hanno fatto il loro ecco nelle ultime partite non non era stato sempre così e quindi sufficiente la prova per loro è stata paragonata per esempio per occasioni create questa partita con il chievo anche a quella con il sassuolo in realtà invece lì al di là di medel proprio con dobbia e brozovic fisicamente non stavano benissimo invece oggi hanno dimostrato con il chievo di stare di stare meglio quindi in crescita 6 per tutti e 3 per quanto riguarda gli attaccanti note positive sia da palazio sia da nuovo acquisti a eder e sia soprattutto da mauricardi quindi 6 e mezzo sia per eder che per palazio palazio si è mosso molto e si è mosso anche bene creando anche spazi facendo spesso la giocata giusta e stavolta a differenza di altre partite in cui il movimento era quello giusto ma sembrava mancasse un po in brillantezza basta ricordare le in on goal clamorosi nell'ultimo minuto con l'atalanta e il 2 a 0 che avrebbe chiuso la partita con il carpi in cui non c'era stato il solito palazio oggi tante volte se ne è andato anche in velocità quindi speriamo ci auguriamo che come l'anno scorso è cresciuto nel girione di ritorno possa essere un'arma in più all'arco di mancini per quanto riguarda i giocatori d'attacco quindi 6 e mezzo per tutti e due eder si è visto che si è visto un altro passo rispetto soprattutto agli ovetici anche se sono diversi come caratteristiche però ne guadagna l'inter a giocare con il brasiliano perché eder va in velocità supera l'uomo si guadagna le punizioni e poi le batte anche abbastanza bene anche se oggi l'ha battuto a brozovic una bella punizione ed è un giocatore è un giocatore molto utile che si sacrifica tanto per la squadra e se l'inter vuole giocare con il tridente ben venga eder in avanti che però lascia aperte anche altre strade così come l'esterno di sinistra nel centrocampo a 4 4 2 3 1 chiamatelo come volete o anche una coppia d'attacco con i cardi con i due esterni quindi un giocatore sia d'utile che si sacrifica molto ha confermato tutte le aspettative peccato solo per il gol che non è arrivato una grande parata di segulin di piede gliela negato nel primo tempo i cardi migliore in campo anche perché decisivo sia nel gol magari poteva sembrare semplice però è stato bravo anche di punto ad anticipare il movimento del portiere era proprio a ridosso del portiere e bravo anche nel colpo di testa purtroppo quest'anno l'inter ha segnato solo un gol di testa è vero che ne ha subito anche solo uno purtroppo quello di alex nel derby ma anche rimane solo a un gol fatto di testa quello di felipe melo con il verona e oggi i cardi ci è andato vicinissimo quando arrivano i cross la musica cambia il cross di nagatomo era stato fatto bene e i cardi anche girato molto bene sul secondo palo però è stato sfortunato a prendere la traversa interna poi la palla è tornata in campo in altre occasioni magari può fare ancora meglio i cardi perché in un'altra occasione non è stato bravissimo a attirare anticipare il difensore che però l'ha ostacolato in tutti i modi e non solo in quell'occasione gli hanno fatto tanti falli questo fa capire anche che il giocatore fisicamente sta ritornando ad avere un ottimo stato di forma così come è stato nella in tante partite della prima parte della stagione così come non era stato con il carpi ausilio specificato come deve essere importante il suo apporto in area di rigore mancini gli chiede invece di svariare molto con due attaccanti come palacio e come der che fanno movimento sulla fascia può essere ancora più incisivo rimanendo rimanendo nel mezzo quindi questo 4 3 3 da rivedere da riproporre anche se abbiamo detto a centro campo ci sono un po più di giocatori che non hanno le caratteristiche ideali per questo tipo di di schema i cardi migliori in campo anche perché è arrivato a quota 50 dopo i 10 gol alla samp e i 9 gol del giro di ritorno praticamente perché aveva la pub al g il primo anno all'inter e 22 da capo cannoniere l'anno scorso 9 gol in questa prima parte di stagione speriamo possa arrivare a 20 anche quest'anno quindi 50 gol in serie a a 22 anni e mezzo complimenti a maurito icardi capitano numero 9 dell'inter i subentrati senza voto a liaice felipe melo che sono entrati negli ultimi minuti a sostituire gli stanchi liaice e cioè liaice al posto di eder e felipe melo al posto di brozovic che non avevano non avevano più brozovic e eder ma anche entrato quan che ha fatto sì che l'inter potesse cambiare modulo quindi a un quarto dato dalla fine sei per quan gesus che è andato a comporre una difesa a tre con miranda e con murillo entrato al posto di palacio e l'inter si è schierata con il 352 con agatomo e telles larghi il centrocampo rimasto uguale davanti icardi ed edere una soluzione che potrà essere utile ancora nelle prossime partite già a partire da verona quando sarà squalificato miranda che ha preso il giallo era diffidato attenzione anche a verona alle diffide per felipe melo medel e condobbia all'inter con mancini mancini potrebbe riproporre ogni curia centrocampo o proprio felipe melo sei e mezzo a mancini perché è ripartito da una squadra diciamo molto equilibrata con il centrocampo il più classico dei centrocampi di quest'anno cioè con medel centrale con brozovic titolare perché brozovic è quello che può dare qualcosina in più a livello anche di proposizioni in avanti e condobbia perché giustamente deve avere continuità icardi riproposto giustamente perché l'ultimo jovetic soprattutto con la juve col milan è stato veramente innocuo quindi icardi tutta la vita da riproporre e con eder e palasio hanno formato un ottimo tridente potrebbe essere ancora il turno di icardi già con il verona e magari gli ace perisic potrebbero dare il cambio eder e palasio o comunque soprattutto eder potrebbe ancora partire titolare e gli ace e lo stesso perisic potrebbero giocarsi l'altra l'altra maglia vedremo se mancini sorprenderà ancora 3 5 2 difesa 3 per il fatto che non c'è miranda intanto 6 e mezzo anche per mancini perché l'inter è ripartita e anche lui ha riproposto un inter molto logica ricapitoliamo andanovic senza voto nagatomo 7 telles miranda murillo 6 e mezzo 6 a condobbia a medel e brozovic in avanti 7 e mezzo i cardi 6 e mezzo a eder e palasio 6 a juan gesus subentrato senza voto a felipe melo e liaic 6 e mezzo per mancini per le video pagelle di inter chievo e tutto a presto con obiettivo inter dalle 20 e 30 tutte le sere su inter tv punto it la prima web tv degli interisti sempre forza inter da michele borrelli un ciao un saluto a tutti